come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità ve lo avevo annunciato in un breve video in uno short qui su youtube appunto volevo parlarvi di quello che ha detto tridico riguardo al reddito di cittadinanza e a tutta la riforma riforma che sta portando avanti la meloni con il suo governo oggi non si parla di mia perché riguarda il reddito ma non riguarda mia riguarda più che altro quello che ha detto pasquale tridico conosciamo tutti e il presidente dell'inps che tra l'altro vorrei aprire una parentesi a me come persona piace personalmente poi eppure più giovane di me quindi siamo quasi quasi coi cittanei lui ha parlato del reddito di cittadinanza e la frase che ha fatto più scalpore questa si alla riforma ma errore toglierlo a chi non trova lavoro che come affermazione secondo me ci può anche stare ma vediamo bene che cosa ha detto vi leggo vi leggo cosa che cosa ha detto allora lui dice per i cosiddetti non occupabili cambia poco il reddito di cittadinanza si conferma essere fondamentale come contrasto alla povertà c'era da fare un lavoro sulle politiche attive su tutto ciò che c'è attorno alla misura e questo mi sembra che vada nella dire nella giusta direzione noi abbiamo tanti inattivi e abbiamo progetti di inclusione che spesso non vengono svolti dai comuni e centri dell'impiego qui apro una parentesi come lo state confermando me lo avete confermato anche voi sotto i video appunto dicendomi appunto che non è che c'è questo grande movimento fervore ecco all'interno dei centri dell'impiego poi va avanti nell'intervista dice qui mi sembra che ci sia una spinta molto forte in questa direzione tanto sta che appunto questa era una frase comunque tanto sta dico io che appunto anche l'altra presidente aveva detto calderone aveva detto sì perché noi vogliamo incentivare i comuni a fare in modo che siano loro a gestire rdc quindi diciamo stanno secondo me se non ho capito male stanno cercando di scavocare un po i centri dell'impiego vogliono mettere in campo di più i comuni con mia invece hanno detto che appunto oltre ai comuni vogliono mettere in campo anche le agenzie interinali insomma quindi stanno cercando di smuovere un pochino le acque in quel senso lì questo ovviamente quello che vi ho letto adesso che ha detto tridico è stata un'intervista che ha fatto a 24 mattina su radio 24 e appunto si riferiva proprio alla riforma del reddito di cittadinanza che vuole portare avanti il governo della meloni ma non finisce lì perché l'intervista è andata ancora avanti ed è tornato a parlare di un discorso che già io sul mio canale ne avevo parlato qualche tempo fa e che cosa dice adesso ve lo leggo perché secondo me qua lui ci ha azzeccato al cento per cento e ci dice il reddito minimo e dice è una misura prevista dall'unione europea tutti coloro che stanno al di sotto di una certa soglia devono avere un reddito l'italia dovrà fare i conti con le direttive della commissione europea sul reddito minimo consentire a coloro che pur non trovando il lavoro perdono il reddito mi sembra una mi sembra effettivamente una grande criticità secondo me secondo me lui vede più lungo non che gli altri non vedono lungo è perché gli altri ovviamente sono al governo devono governare quindi di conseguenza devono fare le cose da governanti no giustamente lui ovviamente è il presidente dell'inps in una forma diciamo sì si deve comunque più o meno adeguare a quello che fa il governo perché lui ovviamente è quello che gestisce poi tutto quello che loro al governo dicono però secondo me lui sta già sta già mettendo le mani avanti dicendo guardate attenzione che qui l'unione europea dice sta parlando di reddito minimo quindi inutile che secondo me a mio secondo mio ragionamento dice se voi fate tutte le riforme del caso che volete metti metti togli sposta a destra sposta a sinistra metti su metti giù fate tutto quello che volete però lui sta dicendo guardate che l'unione europea ci ha già detto perché questo ne abbiamo già parlato ci ha già detto che qua bisogna iniziare a pensare a un reddito minimo quindi vedete che più o meno secondo me lui da lui nel suo piccolo ha già detto guardate che funzionerà così ci sta praticamente secondo me ci sta dicendo ci sta avvisando non so voi cosa ne pensate ma secondo me lui ha già ci sta già informando di cosa succederà più avanti fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete altre informazioni altre notizie che riguardano al reddito minimo la nuovo il nuovo sussidio dal 2024 e quant'altro così ci teniamo aggiornati a vicenda io vi dico una cosa voi me ne dite altre voi siete in tanti avete più notizie bene con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo video sempre solo sull'unico canale originale di youtube il mio aspetto ciao